Io sono venuto dal Veneto a 18 anni, sono arrivato a Milano in cerca di lavoro ma soprattutto per studiare e naturalmente mi sono inserito nel mondo della pubblicità quasi da subito. Mi ha dato molte soddisfazioni, molte sorprese anche nell'ambito lavorativo che ho portato avanti per oltre 40 anni. Naturalmente la pittura e l'arte in genere l'ho condotta così a spizzico e bocconi. Oggi sono qui a presentare delle opere che avevo in testa di fare già da tempo. Leggendo un po' di note su di te, ho letto che vieni dalla scuola futurista, vero? Sì, io mi sono guardato naturalmente il passato, mi sono guardato i grandi maestri, sono stato a Parigi, ho visto Robert Delunay e mi sono innamorato molto della pittura sua. Comunque la pittura in movimento mi è sempre piaciuta e quindi i vari Balla, Boccioni, Severini mi hanno veramente guidato nella forma espressiva che più ci tenevo. E naturalmente ho portato avanti anche nel mio piccolo questo modo di dipingere. Senti, ma molti ti hanno conosciuto per il discorso della mascotte di Italia 90, no? Ah sì? Senti, ma potresti, oltre a questo voglio dire, potresti descrivere in pochissime battute il tuo modo di dipingere, il tuo modo di fare arte. Volentieri. Beh, anche la mascotte di Italia 90 rientra dentro nel discorso della pittura futurista perché è arte in movimento. Difatti quel pupazzo è proprio in movimento, è in uno stato dinamico che valorizza il concetto del movimento. Come è nata l'idea? L'idea è nata sotto un semaforo che scattava dal verde al rosso al giallo in una maniera incredibile e io ero sempre fermo in corso Buenos Aires a Milano. Era una giornata piovosa e quindi sai, mentre si è fermi io avevo in mano matita e carta e portavo avanti quelli che erano i miei progetti di lavoro, insomma. E in quel momento ho avuto l'idea di, e mi ha suggerito soprattutto il semaforo, l'idea della bandiera italiana. Facendo uno schizzo lì per lì, molto veloce, in studio più tardi, ho rivalorizzato quel concetto ed è nata la mascotte. Quindi la parola Italia è dentro nei bastoncini della mascotte stessa. Capito. Senti, per quanto riguarda nella tua biografia sostanzialmente si legge che sostanzialmente tu rendi i protagonisti delle tue opere, i colori quali guardano le tue opere. È vero? Come fai? Allora, qui c'è un piccolo problema che risale a tantissimi anni fa, ma credo che sia un problema comunque attuale. Molta gente nel guardare non solo i miei quadri, ma tutti i quadri, le opere astratte, si chiedono ma cosa significa, cosa vuol dire, cosa mi rappresenta. E naturalmente stanno lì qualche minuto e poi sconsolati ne escono praticamente senza ottenere, diciamo, quel quid che serve a capire l'opera. Allora io mi sono posto un problema, ho detto io devo cercare di trovare un qualche cosa che permette al fruitore di capire l'opera, un pochino meglio semmai. Non voglio certo mettermi in condizione di spiegarla l'opera, però cercare di indurlo a interagire con l'opera, questo sì. E allora, lavorandoci sopra naturalmente con Dovizia, ho trovato un sistema che l'interattività della persona gli permette di entrare meglio nell'opera stessa. E se vuoi già ti faccio vedere come. Eh, cominciamo a vedere qualcosa perché mi pare che tu hai delle novità in serbo, vedo? Certo. Ecco, questa è un'opera che si legge così, però se uno non è, non gli è gradito diciamo il quadro che vede, è sufficiente che muove questo supporto ed ecco che nasce un'altra opera. Sono intervenuti questi due pallini rossi e quindi vedi già un'altra opera. Se non è contento di questa soluzione, ne può vedere un'altra. E quindi questa è come se fosse una casa, una chiesa, qui c'è l'introduzione dove si può entrare, quindi c'è una visibilità completamente diversa. Quindi tante opere in una, sostanzialmente. Tante opere in una, esattamente. Quindi facendo così si copre il tutto e si mantiene queste longitudinali, diciamo, che ti permette di vedere un'altra opera. Ok? Senti, so che tu... E ritorniamo al punto di prima. Quindi già quattro soluzioni le vedi. So che tu le hai presentate anche in pubblico ultimamente. Com'è andata? E' andata molto bene. Le ho presentate sabato e domenica, giorno 16 e 17 aprile, qui nel municipio di Camparada, nella sala consigliare, ed ha avuto un discreto successo. Non aspetta a me adesso dire come, quanto, cosa, però dal mio modo di vedere alla gente è piaciuto. Senti, hai ancora qualcosa da farci vedere? Senti, ho da farti vedere un'altra opera. Ecco, allora, come dicevo prima, è sufficiente muovere alcuni elementi in questo quadro che già si nota, voglio dire, un altro tipo di opera. Anche qui basta muovere. Sì, questo magari la sposti più verso di te, perché questa parte si vede più o meno. Ecco. Perfetto. E in più c'è una novità, che il quadro non solo si muove e quindi interagisce, diciamo, con la persona stessa che intende cambiare il volto al quadro, ma bensì c'è la musica. addirittura, guarda, anche con il logo H2Biz. E in più c'è la dedica e come vedi la dedica è alla H2Biz. Senti, ma è vero che fai anche opere sostanzialmente personalizzate, cioè dedicate alla persona? Ecco, questo come hai visto, l'ho fatto di mia iniziativa naturalmente. H2Biz era un modo per poter spiegare che chiunque mi può chiedere un quadro e naturalmente personalizzarlo alla fidanzata, piuttosto che all'amico, piuttosto che all'azienda. Quindi si possono fare in maniera personalizzata. Però dirò di più, la musica che hai sentito è una musica naturalmente commerciale questa, recuperata di cartoncini, diciamo, natalizi, e di buon compleanno, eccetera. Ma qui intendo fare io la musica in modo tale che il prodotto, cioè il quadro, sarà originale in tutto e dappertutto. Quindi sia la parte, diciamo, preeminente pittorica, sia la parte musicale sarà opera sostanzialmente mia. Senti, allora noi chiudiamo magari indicando qual è il tuo sito internet, così... Volentieri. Allora, il mio sito è www.lucioboscardin.it La mia email è luciobo-libero.it Allora, con questa indicazione noi ringraziamo Lucio Boscardin per questo suo tempo che ci ha dedicato. Grazie. Grazie a te, grazie mille, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.